Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Aveva 26 anni e da 5 lavorava come dipendente presso la Bacon, un'azienda specializzata nella produzione di surgelati situata a Pieve di Soligo, nel Veneto. Ani la Grisaia ha perso la vita ieri, durante il suo turno di lavoro. La sua vita è stata tragicamente interrotta quando la sua testa è stata schiacciata da un macchinario per l'imballaggio nel quale era rimasta incastrata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, insieme ai medici e agli infermieri del SUEM, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Attualmente, Carabinieri e Spisa stanno esaminando la dinamica dell'incidente, mentre la procura di Treviso dovrebbe avviare oggi stesso un'inchiesta per chiarire le responsabilità legate a questa tragedia. Si riporta che il macchinario coinvolto sia stato posto sotto sequestro. All'esterno dell'azienda si sono verificati momenti di tensione quando i familiari di Ani l'hanno appreso della sua morte. Desideravano entrare per vedere la loro cara e comprendere le circostanze di questa drammatica tragedia. Ma le forze dell'ordine li hanno fermati in ottemperanza alle norme che vietano l'accesso alla scena di un incidente durante le indagini in corso. I familiari, tuttavia, hanno espresso anche la loro preoccupazione per il ritardo con cui sono stati informati dell'accaduto. Al momento, nessuno riesce a fornire una spiegazione convincente a quanto è accaduto. Ciò che è certo è che Anila non era solo una lavoratrice qualsiasi, era addirittura bicedirettrice dell'azienda. Proprio per la sua esperienza, era stata promossa di recente. La sua perdita rappresenta non solo una tragedia personale ma anche una significativa lacuna nella comunità lavorativa.